I finanzieri del Comando Provinciale di Enna, in linea con le direttive operative emanate dall'autorità di vertice del corpo, hanno intensificato durante il periodo estivo l'azione di servizio a salvaguardia dell'economia legale e dell'intera comunità. Nei soli mesi di luglio e agosto sono stati portati a termine 115 controlli in materia di rilascio di scontrini, ricevute e relativa memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, 15 dei quali sono risultati irregolari. Nello stesso periodo, oltre 50 sono stati i controlli sulla circolazione e il trasporto delle merci, nonché i controlli riguardanti la disciplina dei prezzi dei carburanti, riscontrando anche in questo caso 15 irregolarità nei confronti degli operatori che non hanno adempiuto agli obblighi di esposizione, pubblicità e comunicazione periodica al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi effettivamente praticati al pubblico per ciascuna tipologia di carburante. Inoltre, portati a termine controlli per arginare gli insidiosi fenomeni del lavoro nero, dell'abusivismo commerciale e del commercio di prodotti contraffatti o insicuri, combinando le relative sanzioni nei confronti di due imprese risultate non in regola.